All'obiettivo di diffondere la cultura della legalità e della giustizia tra le giovani generazioni mediante la promozione della lettura. Per questo è nata una biblioteca itinerante caratterizzata da un viaggio iniziato questa mattina alla Mediateca Montanari di Fano e che per i prossimi mesi proseguirà nelle scuole della provincia. La sede della biblioteca invece si trova alla Fattoria della Legalità, un bene confiscato alla criminalità organizzata a Isola del Piano. È diventato attraverso Libera e ad altre associazioni un luogo di incontro e un esempio importante di convivenza civile. Oggi parte il primo viaggio, andiamo a consegnare la biblioteca alla scuola Nuti e poi da lì partirà e proseguirà, raggiungerà altre scuole. Inoltre la Biblioteca della Legalità è attiva anche sulla formazione con proposte per educatori, insegnanti, bibliotecari, liberai che vorrebbero impegnarsi nella promozione della legalità democratica attraverso le storie. C'è una valigia per l'appunto con 101 libri dedicati ai temi della giustizia, della legalità, della lotta alla criminalità che vengono proposti con un invito ovviamente anche alla cultura della lettura agli studenti delle nostre scuole cittadine. Questo è un percorso ovviamente didattico, culturale che si incardina però dentro un percorso anche più ampio che coinvolge tutto il comune di Fano che nelle prossime settimane sarà impegnato anche con alcuni passaggi in Consiglio Comunale a completare quel percorso di impegni che il Sindaco Seri ha preso appena insediatosi con il progetto Trasparenza Costo Zero, quindi la campagna nazionale lanciata da Libera e dal Gruppo Abele, proprio per coinvolgere l'intera città, non solo alcuni segmenti, dentro un percorso che sia quello della legalità, della lotta alla corruzione e del contrasto della criminalità organizzata.